Quinto appuntamento con Missione Salute Marche Nord Istruzioni per l'Uso. In questa puntata presenteremo il reparto di neurologia e come affrontano patologie altamente impattanti sul paziente e il suo habitat familiare. Sclerosi multipla, demenze ed epilessia. Negli studi di FanoTV il dottor Guidi, responsabile dell'unità operativa, e i suoi colleghi. Parleremo di neurologia e delle malattie neurologiche che affliggono purtroppo molti pazienti. Sono malattie, soprattutto parleremo di demenza, di Parkinson, di epilessia, di sclerosi multipla, ma anche di stroke. Quindi tutti argomenti, credo, di estremo interesse. Come sempre, nella seconda parte della puntata, voi telespettatori potrete rivolgere domande ed osservazioni direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate, chiamando FanoTV allo 0721 861433. Dalle 20.45 in poi, dopo il Tg, occhio alla notizia.